Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video Nello scorso episodio abbiamo fatto DC Stage con Gunjack Ed oggi andremo a scegliere un altro personaggio Intanto vediamo l'intro Grande Yoshimitsu BAM Che gioco raga E' un'emozione così forte Allora Oggi abbiamo sbloccato Mokujin Ovvero colui che copia gli stili integrati combattenti Però non faremo con Mokujin Ma voglio fare con Vediamo un po' Oggi con Heavy Sì, oggi Eddie E il prossimo video faremo con Lo Allora, pure con Eddie non è che mi ricordo tutto Ok Certo il perfetto Mokujin E' da incorniciare Se la ride, Eddie Vabbè, Eddie Ma non fa il quattro però Siamo sempre umili Perché qua ci vanno sempre spawnare Eccola Guarda quanto leva Aspetta un po' Ci voglio riprovare Ma non so se quella si può fa sempre Vabbè, si si può fa sempre Perché il pugno di pull Ma ho pensato che poi Devi aspettare tot tempo Che te li fa La super mossa Eccola Vabbè, aspetta Aspetta, prima voglio intanto allontanarlo Allora, ecco Ecco, vabbè, vabbè Ho capito Vabbè, stavolta ho fatto io il coglione però Perché mi stava concentrati a farla Perché poi me lo so imparato E mi sto a chiudere Sì, sì Mi stava a trasformare Vabbè, stavolta Allo stage 4 Siamo a batte, dai Vediamo Vabbè, stavolta Eccola Vabbè, stavolta E vabbè Mamma mia Le cazzone No Fatta eh Ok perfetto Insomma il problema è andato a Dugaccio Come se la prendevo E a che xiao è andata Oh Mamma cugine vediamo un po' stavolta che interpreta No stavolta questa è la prima volta che incontriamo Mamma cugine mi sa che questa è Nina No jean non jean Sì jean Facciamo perde Jean Sì a lui Sì a voi Tacci tua Tacci tua che ho fatto Eh adesso usiamo due eddy Sì ma io so usarlo meglio Tra l'ho detto Vediamo un po' stavolta Orang Tosta eh Ah mamma mia Vinto papaculo Il mitico pull Perfetto Perfetto Grande po' stavolta Grande po' stavolta ma noi siamo letteralmente più forti L'altra volta Ulya Ulya sta sempre all'ottavo Ma mi sa che è già predisposto così Oh Oh E' così spoiler i prossimi video Lu Lu E Ulya Saranno Guarda eh Vieni E ciao Ulya Tu vieni Ah Cua Cua E Cua Cua E testata calcione e addio e gli acci guarda come si abbassa non sapevo voglio fare anche il prossimo perfect si 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 lo sappiamo che poi assorbigliaci e guarda come diventi eh non facciamo il perfect anzi qui rischiamo che di perde e le quali abbattuto perché non mi fa più ah eccola dai non manca un soffio cacci tua dai non puoi perdere mamma mia che puto di culo tu vieni Ehi! Ragazzi il video per oggi finisce qua Se vi è piaciuto lasciate un like Condividete Iscrivetevi al mio canale se non lo avete ancora fatto Attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati Ci vediamo al prossimo video Bye bye